ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono Anna e oggi stiamo facendo un video su ecco come ho detto su minecraft per la ps vita stiamo facendo un combattimento come si dice hello vabbè dai ma non c'ho niente ma perché mi hanno battuto tutto spero che si vedi bene no assolutamente nulla ma che cavolo sta dicendo lollo mi sto fuoco si ma mi distrugge il telefono grazie come si dice siete su youtube in inglese tre salutati youtube gritti youtube dei quello vuol dire loro io ma che quante persone sono a tutti voi siete su youtube sono inglese o francese posso parlare inglese sono inglese e ma già sono morta non ci saprò mai non lo potremmo mai sapere ma io ho fame ma sto per morire ma hai giusto fatto l'altro haudi zitto lollo lollo stai zitto ci capisce niente se no no e no bomba nucleare buongiorno guarda che ti vedo è ti vedo sì ora non più sta per morire di fame io è stato addio muovo sta per morire sta per morire di fame io ecco perfetto un buon dettolo non fatico haudy come hai detto haudy è un fiore sto giocando la blu buongiorno gritt youtube haudy perchè ma stai un tipo aspetta voglio vedere cosa ha fatto non mancano due persone che manca tanto guarda che ti si vede però vabbè ma anche l'ho neanche la chat attivata sono la chat attivata no però non avevo la chat attivata quindi lui possiamo sentire lì ma loro no cioè loro non ci sentono hey hey si è francese salut quindi ehi forse non può anche verità non so e che non conosco quelle forse sono marchi nick marchi nick forse sono eh di quel paese francese fonica ma anche il posto in america che ci parla in francese ah si Ehi! Ehi! Già t'espulso, poverino, che l'ho fatta. Ehi! Ehi! Poi mi chiamo Lorenzo Baldimini, sono una femmina. No, e loro non capiscono... Ehi! 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 Dinosaur Simulator. Bello, robot. E' un robot. Chi? Era una skin da robot. Ehi! Hi! Mi sentite? Hello, salut! Tutto! Cioè, come fanno a parlare tra di loro? Magari è una persona che parla tra di sé, magari parla con il fratello di fianco a lui. Salute! Come va? Doghe! 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 Doghe, un cane! Doghe! Infatti, inoltre, si dice doghe e cane! Ma che... che intelligenza! Stai già morendo tutti! Eh? Stai già morendo tutti! Intanto c'è il frasso dello sole, però vabbè. C'è il sole della nostra luce. Sicuramente il sole non c'è. Ecco, ho dato tutto per io. Ciao! Io e Anna. Vabbè, scusate per questo momento di ballite. Uff, roba! A portare la Kate! Ciao! Da Francesco. Scusate se parliamo. Sì, perché prima non lo facevamo. Oh, quante domande! Sì! Basta! Sì, va bene! Sì, ciao! Ciao, vai! Via! Via, sedete! Apriti cesto! Non serve la cesta! Aiuto! Ho la cesta che non mi sia... Il cavolo sta succedendo! Oh no! L'ostro è uscito dal gioco! Non ci voleva! Allora faccio... Crea una partita così c'è un post! No! Adesso metto pausa! Ok! Entrata una persona! Vediamo se sta parlando! Ma te l'ho fatto ben lungo! Hi! Sono tutti francesi! Hi! Hello! Hello! In English? In English? It's me! No! I'm Italian! A posto! Italy solo! Sorry! She's... Very stupid! We... We are Italian! Greet YouTube! Saluta YouTube! Amico che non conosciamo neanche! Ci sono! Ciao! Buongiorno! Turo! Pensavo come stai! Aiuto! Ciao어�喔! O se è stupida! Non ti che hai tutor! Opposite chi si chiama! Così! how farё è tu! How do weacing come scopino? Cos'è? No niente! 5... 4... 3... ciao riuto con le stupide così come scopino cos'è no niente 5 4 è diverso perchè hanno abbandonato ora sono molto triste comunque mi piace la mia skin sei una cicciona qui veramente sei ingrassata ok non più adesso la prima stavo così tipo infatti tienano in più dritti sono ingrassata invece così no buongiorno oh buongiorno good morning oh quanto giù ci entra te ma così che non stanno entrate presenta sono entrata però good morning ma te che non sta parlando lui vuoi dire che non ce l'ha è morto sei già morto? no già morto ah e poi aspetta dai vedi una cosa perché una persona è riuscita ad aprire una porta ma io non ho capito ancora come aprirla allora ho visto che andava cassù su magari un fassato di gazzi apriva queste bellissime cose faceva, cadeva di sotto poi di saliva perché è sbagliato ma è una tecnica esatto una tecnica di ecco quindi cade di nuovo e poi comincia la partita e poi questo qui è fermo e non fa niente e vinco di nuovo ma è morto ma no abbandonato ma come è possibile adesso sto giocando ho giocato da sola che bello due uno che ho vinto ma chissà perché faccio una cosa adesso esco un secondo ricreo il mondo non so il motivo forse perché si escono a casa e poi ci rincontriamo ci ritroviamo ci riprendiamo che cavolo è te che sto bando ah e comunque vi devo dire una cosa comunque se siete giorni non vedete che che carico video così è perché devo fare i compiti ecco la verità che spavento che forza e poi se vedete aspetta aspetta e se vedete che certe volte non ci sono le intro o non ce la intro nei video nei video nei video guarda non mi interessa dopo dopo comunque la loro stai trovando ad under se non si fosse capito no no è che spavento che è brutta comunque e se non vedete che certe volte anche non ci sono le intro ciao non ci sono le intro perché i video sono troppo lunghi tipo come quello lì del server di simo scappo e infatti non ho messo l'intro perché è già morto delle persone che cavolo è adesso si è già caricato cavolo sono morto da un giorno perché lo sto facendo ieri quindi sì un giorno indietro e comunque se vedete che non metto l'intro perché power director quando mi produce un video non me lo me lo fa male perché però nemmeno fa tipo a un certo punto si blocca e fa tipo dei versi strani fa così come un video una volta caricato del troll che faceva uno strano ruotaggio ok vai da quest'ascensore ciao a tutti amici come state siamo tutti molti amici noi ti ho messo qualche cosa nascosta qua che cavolo è stato sembrava così un fulmine io tengo una torcia che cavolo è nascosta ma non entra nessuno nel mio server perché nessuno mi vuole perché oh oh ce lo posso vedere ce lo posso vedere oh è cronato un muro ok la pizza la pizza fa male in realtà è il film horror più spaventoso del mondo lollo sta un po' zitto perché sono morto perché mi hai verificato un errore cavolo di Bruxelles mutandè sono finito perché è cresciato nella bucina del bambino mi ha fatto crescere il gioco sono di nuovo nell'ascensore ahia ok ancora un attimo basta lollo zitto hi allo hi hi aiuto perché sono espulsa che cosa ho fatto di male mi stanno tutti facendo molto danno che cavolo sai tu il bagiaccio sassino perché non rispondevo ma io gli parlavo lui che non rispondeva è colpa mia scusa ma non voglio sempre è colpa mia se non rispondeva lui non voglio sempre in questo gioco maledetto che coscibe aiuto ma perché è sempre qui è tipo che fai divertire il mondo è buggato siamo arrivati hi io non dico è russo no è tedesco oh c'è qualcuno qui dall'altra parte della porta dove sono a Roma sono hi hello sono caduta nel buco congiorno persona come sta siete su youtube non siete accorti ah oh per fortuna c'è l'involbilità involverità cosa so cos'è e cos'è ma mi sentono mi sentite hey sono una certa inutile hey 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 madonna cos'era l'urlo apocalittico buongiorno ti ucciderò no non ti ucciderò perché tu sei tu sei tu sei con i cigli esatto oh oh allora io sto qua sopra hey ciao che cavolo sei tu che cavolo sei tu ah 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 hey che risata malefica oh 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 che risata malefica eh sono l'unico sopravvissuto tuttora hey 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 how are you how are you cosa vuol dire how are you how are you youtube youtube greet youtube greet youtube greet youtube youtube you are in youtube you are in youtube no on youtube su youtube si dicevano hello 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 i speak english and italian E basta, e stop Mi son buggato tra queste persone di vie Perche so così alto? Siamo vediamo Arck sta bruciando Che cavolo sta succedendo? Corri verso qui a italia come corri? no io roba io ragazzi ah perchè sto volando sul lago? vabbè uguale corri verso l'ascensore presto allora cerca su internet come si dice sto facendo un video a caso nooo stai impazzito perchè non sono capace di cercare su internet anzi non so come si dice I I did a video ok a 2 a video no hai io fare video hai 2 video come sono Slenderman? è piccolo Slenderman aaaah ma perchè rimbalzo contro gli alberi? cavolo sono finito fuori dalla mappa mappa l'ascensore laggiù posso ancora raggiungerla vai posso ancora raggiungerla l'ascensore se la posso fare se non lo posso ci sono passato sotto no dove sto finendo cavolo sta scendo no ma perchè è sconsapevole da gioco? vabbè per questo video può essere tutto non hai fatto niente? vabbè si ho fatto un po' di roba nooo c'è un po' di gente a caso russa tedesca inglese francese giappone più mi sa come ho incontrato una persona c'è niente ehi ma che cavolo una stanza vabbè sui mondo di tutti i nostri bellissimi mondi voglio farvi vedere uno secondo mio mondo il survival aspetta eh hanno una survival difficoltà facile e carica si ah che cavolo di schieno guarda il mio bellissimo villaggio pieno di villager e di cani cosa faccio guardate aiuto cos'è? speedy gonzales speedy gonzales villager entri madonna che rumore forti è un pò zitti è g royalty in giu buongiorno come sta? ciao e— Ah be 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 vedene madonna che rumore un pò zitti oh! zitti 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 eem obs nout viktigt zitto zitto perchè non c'ho la spada in mano? mmm che bug è questo? ah no c'ho ancora lo scatto per qualche motivo non c'evo più ma perchè è ucciso il villager sedetevi subito, sedetevi subito, state per sempre seduti però lo stesso, siete fermi, via, villager, zitto, vabbè comunque questa è la mia casa, allora questo è il mio, possiamo dire il mio trampolino per nuotare in club di smacola, per qui ci sono i miei cavalli, i miei cavallini, i miei due cavalli, uno si chiama macchia, che non so che sia l'altro, non uscire tu eh, lui si chiama macchia, si, perché non so, anche l'altro dove chiamarsi macchia, però non si chiama macchia, ok comunque c'è questo, ciao buongiorno, i maiali, le mosche, e poi là ci sono le galline, le galline, cosa sono le galline, non ho tipo di galline, però sono le, questa è la casa che ho creato i piedi per villager, perché loro si mettevano tutti in questa casa, tutti in questa minuscola casina, come fanno stati tutti in questa casa, infatti uscivano sempre, vabbè, dopo che ho creato un'altra casa, perché poi si mettevano anche di qua e non ci stavano, c'è un giorno villager, come sta? Eh villager domani, il cavallo, come sta? Sono confusa, mio cavallino gu gu, gaga, 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 villager cosa guarda, non mi puoi annusare i piedi, capito, non c'è il nusone, ok allora per questo video può essere tutto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ciao, ciao.